Appassionati e collezionisti, bentornati in un nuovo video. La stagione ovviamente è già iniziata sia per la Serie A che per la Champions League, ma finalmente abbiamo tra le mani il nuovo prodotto della Tops, proprio della Champions League. Infatti in questi giorni in edicola è uscito proprio lo Starter Pack contenente un album e due bustine della nuova raccolta 23-24 della Tops, Champions League. In questo video qui andremo un pochino a vedere com'è composto il nuovo album, vedere un po' le novità, ma soprattutto andremo anche ad aprirci le due bustine presenti all'interno di questo Starter. Per non farmi mancare nulla ho preso anche il Multipack da 6 bustine che andremo a aprirci magari più là sul mio canale Instagram che invito ovviamente a seguire. Quindi andate su gom.tales e lasciate il vostro segui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace se il video naturalmente è di vostro rendimento e vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando la campanellina perché è tutto gratuito e tutto per voi collezionisti. Ed eccoci davanti lo Starter Pack contenente quindi un album e due bustine. Si trova come dicevo prima in edicola e sul sito della Tops per 4,99€ quindi 5€ e troveremo all'interno due pack da 8 bustine e il nostro album che ovviamente andremo a scoprire insieme. Nel retro quindi abbiamo già un po' le novità o meglio cosa ci si aspetta all'interno di queste bustine. Abbiamo come sempre sia maschile che le femminili della Champions League. Abbiamo le Idas Star Bowl History, le Memory That Stick Classic Moment che immagino siano un po' i ricordi della Champions passate. E abbiamo anche le ultra rare impact nuove e ovviamente tornano anche le parallele numerate. Insomma abbiamo tanto da spacchettare ma prima io partirei proprio dall'album. Starter Pack aperto, queste sono le due bustine che ho trovato all'interno ma andremo a vederle in seguito. Ora soffermiamoci sull'album. Album che mi piace molto, mi piace molto l'aspetto grafico e anche la qualità dell'album che devo dire che non è per niente, per niente male. Per la gioia di tantissimi collezionisti italiani e stranieri il Napoli è di nuovo presente nella raccolta Tops Champions League. Dopo la prima pagina introduttiva abbiamo subito la Team of the Season, cioè la squadra della stagione passata selezionata proprio dagli osservatori tecnici della UEFA. Al momento non so chi siano i giocatori ma spero sicuramente che siano molto interessanti sia per tematiche che proprio per completare questo album. Prima pagina ed ecco subito il Milan, colpo d'occhio il logo orizzontale, non molto apprezzato da parte mia ma come penso da molti collezionisti di tematiche perché all'interno della raccoglitura devono mettere la figurina in verticale. Abbiamo tre varianti quindi la Skipper, la Super Striker e la Next Gen ma soprattutto abbiamo anche la Impact considerata rara dalla Tops. La curiosità è anche la presenza di questo logino che vi faccio vedere meglio va a identificare la prima figurina di quel giocatore all'interno di tutte le collezioni seppur questo dato sia un po' da verificare perché è uscito precedentemente il FIFA 365. Quindi diciamo che c'è un attimo da capire se effettivamente questa è la prima figurina assoluta di questo giocatore ma lo scopriremo insieme proprio sul mio canale Instagram. Andiamo a darci una rapida sfogliata all'album quindi ricordo l'Impact di Leao, poi abbiamo Saka per l'Arsenal, Atletico Madrid con Griezmann, grandissimo collezionista per l'Inter. Abbiamo l'Altono Martinez come Skipper, penso sia il capitano da come ho capito, lo Super Striker che è Turam, la Next Gen Aslani e ovviamente l'Impact di Niccolò Barella. La First Sticker abbiamo Pissek ma soprattutto abbiamo anche la prima figurina Champions di Frattesi. Soffermiamoci quindi anche ovviamente sui campioni in carica del Manchester City perché c'è la Super Striker di Erling Haaland. Holland, De Bruyne scelto come Impact ma sicuramente questa figurina sarà molto molto ricercata, altra figurina ovviamente la Next Gen di Alejandro Garnaccio ma anche un bel Erasmus Oilund, Maya Manchester United. Prima parlavamo della presenza del Napoli all'interno di questa collezione ma purtroppo c'è anche una nota abbastanza stonata perché non è presente Mbappé. E per me che colleziono Mbappé è una grave, gravissima perdita. Però c'è da dire anche la presenza di una First Sticker molto interessante che è quella di un giocatore che ha bruciato praticamente le tappe. Io comunque riguardante queste First Sticker le prenderei un attimo con le pinze c'è da valutare l'uscita di altre collezioni per capire se effettivamente la prima figurina comunque è una delle figurine molto importanti all'interno di questa raccolta. Ovviamente sto parlando di Zaire Emery qui nella sua versione Rookie Card firmata della Tops Inception numerata 99. Lazio con Immobile Skipper, Isaacson Next Gen e il Tati Castiglianos come Super Striker e ovviamente Impact Zaccagni. Ed eccolo il tanto agognato desiderato Napoli finalmente ritorna nella creazione sticker della Champions League con ovviamente la Impact di Kvika Kvara Skellia. Quindi abbiamo sia la versione base che la Impact. Next Gen Zanoli, Capitano Skipper quindi di Lorenzo e naturalmente il Super Striker. Non poteva che essere lui Victor Ozzyman. Per concludere abbiamo anche quindi le UEFA Champions League Adidas Star Bowl History con la storia del pallone, credo, della Champions League. Le Memory Death Stick quindi un po' gli eventi principali delle varie vecchie competizioni. Le Mega Sign-Ins quindi gli ultimi ingaggi delle squadre partecipanti alla Champions League come per esempio Jude Bellingham, Ardragouler purtroppo infortunato, Orasmus Roilund e perfino abbiamo una pagina dedicata ai migliori giocatori votati proprio da noi collezionisti. Quindi immagino uscirà un aggiornamento di queste figurine e anche ovviamente la Youth League con il Top Goal Scorer. Una cosa molto importante che ho letto all'interno dell'ultima pagina dedicata alle fiorine mancanti. Naturalmente si possono ordinare sul sito della Topps le ultime 50 mancanti dal 21-2024. Ma attenzione non sono comprese ovviamente le fiorine parallele e anche le first stickers. E naturalmente per concludere questo video andiamo ad aprirci le nostre due bustine contenenti.8 figurine. Eccoci subito con una Mega Sign-In di Gundogan in maglia Barcelona. Poi abbiamo Banza, Militao per il Real, Matvienko del Chaktar, poi abbiamo Fulgini, Marksraf Hakimi e come brillante abbiamo... Ah no scusate abbiamo ancora Upamecano e brillante uno scudo come diceva appunto in orizzontale. Qualità da leggermente rivedere un po' leggerina abbiamo già un po' di ondulazione nonostante l'abbia aperta adesso ma graficamente mi fa impazzire. Voi cosa ne pensate? Fatelo sapere ovviamente nei commenti ma a me personalmente mi piacciono moltissimo. Secondo pack spero di trovare ovviamente o Kvalaskelia o Alain o comunque qualche giocatore interessante. Rashford Super Striker del Manchester United, Nias, Zanoli, Next Gen Napoli. Oh abbiamo questa che potrebbe essere quindi sì sicuramente la Magic Moment o come venivano chiamate Moment Stick. Ora non mi ricordo molto che è molto molto carina. Poi abbiamo Torres, Ederson, Adrian Thomason e McGee. Quindi ecco sì presenti anche le femminili ma siccome non ho visto sezioni dell'album dedicate a loro qua è sicuramente legate solo alla Team of the Season. Purtroppo non sono riuscito a trovare figurine interessanti a parte questa Super Striker di Rashford. Quindi la mia caccia a Kvalaskelia, Holland, Garnaccio continua. Sicuramente continuerà sul mio canale Instagram e ma anche qui su YouTube. Quindi non c'è sta che salutarci. Alla prossima. Ciao.